Bene, abbiamo concluso le audizioni e vi comunico che ho deciso che avrà l'onore di fare la solo... Aspetti! Devo fare l'audizione! Mi dispiace, Fibi. Le audizioni sono finite alle quattro. Manca ancora qualche minuto alle quattro. Cosa? Un momento come possibile! D'accordo. Hai due minuti per farmi tornare sulla mia decisione. E' brava. Ma adesso arriva la tosse. Mercoledì non lo permette. Approfitterò del regalo da Dio che ho ricevuto da Evan. Una bella torta alla crema. A un mondo di Qardava che incredible isnerena. Da, 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 da. Da, 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 da. A un mondo di tutto orgogliaci eivo Dopo aver ascoltato i candidati, ho preso la mia decisione. A farela solo sarà... Phoebe Tanderman! In giustizia, protesto! Perché io sono la cantante migliore del... Bel colpo. Grazie. È stato un piacere.